Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo top di gamma di casa Sunto, ovvero il Sunto Vertical un orologio abbastanza nuovo, una nuova generazione di orologi possiamo dire di casa Sunto di cui adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno dell'accensione completa Inizio subito dicendovi che ci sono due modelli di Sunto Vertical, ovvero modello titanio e modello in acciaio Cosa cambia? Innanzitutto i materiali, vabbè il titanio è fatto con dei materiali più resistenti Acciaio costa un pochino meno perché è fatto con dei materiali minori E quello che cambia è anche la durata della batteria che sul modello in titanio dura di più Il modello in acciaio invece dura un pochino meno Ma iniziando a vedere questo modello, in particolare quello in titanio Iniziamo a parlare dei materiali con cui ho costruito Beh, devo dire che è davvero tanta roba, è davvero un orologio fatto bene, cassa in titanio È un orologio leggero, sta bene al polso, non è nemmeno troppo grosso, dirò la verità Un orologio che da punto di vista dei materiali mi è piaciuto veramente, veramente tanto Tenete conto che l'ho strusciato anche contro la roccia facendoci delle vie ferrate E devo dire che non ho avuto nessun graffio Ci sono due cose però che mi hanno fatto un pochino storcere il naso Innanzitutto il vetro posto nella parte superiore che protegge lo schermo Secondo me è un po' troppo riflettente, a me è capitato di utilizzarlo in delle giornate sole pieno E ho notato essere veramente molto riflettente Ogni tanto bisogna stare a girare il polso perché non si riescono a leggere i dati Seconda cosa, diciamo, l'ottimizzazione delle cornici Questo orologio qua nel modello titanio è anche solar Infatti noi troviamo tutto un pannello solare messo nella parte esterna Che va a recuperare energia solare per aumentare la vita della batteria Ecco, devo dire che bene che ci sia ma come è stato implementato non mi piace tanto Perché il pannello solare è stato messo nella parte esterna dello schermo E fa sì che lo schermo sia abbastanza piccolo rispetto a quella che è la cornice generale dell'orologio Fosse stato messo direttamente sotto allo schermo come in altri orologi Secondo me è andato meglio perché gli avrebbe dato l'opportunità di avere a parità di grandezza dell'orologio uno schermo più grande Quindi diciamo bene i materiali però si poteva lavorare un pochino di più Visto che ve ne accendavo parliamo di batteria Innanzitutto possiamo scegliere noi vari modelli di risparmio di batteria Quindi se vogliamo tutto acceso sembra che consumerà al massimo la batteria Se vogliamo tenere qualche funzione spenta per farla durare più a lungo Devo dire che in generale io l'ho utilizzato sempre con tutte le funzioni accese E diciamo che la batteria mi è durata una decina di giorni Tenete conto che io faccio all'incirca una trentina di ore di attività la settimana E dopo dieci giorni l'ho dovuto ricaricare Devo dire è veramente veramente ottima perché vi faccio un esempio Confronto con il mio Fenix 7X Lui con lo stesso ore di attività settimale solito devo caricare dopo 7-8 giorni In questo assunto invece sono riuscito ad andare avanti 3-4 giorni senza nessun problema Arriviamo dalla parte di sensori quindi abbiamo davvero tantissimi Per quanto riguarda il cardiofrequenzimetro devo dire che lavora veramente molto molto bene Su di me l'ha davvero lavorato perfettamente Molto simile a una fascia cardio quindi molto bene GPS ne abbiamo due abbiamo quello standard e quello dual band Col dual band davvero spettacolare Io ci ho passato all'interno di un canalino per vedere un po' come teneva E non ha perso un millimetro quindi perfetto GPS normale che secondo me è anche quello che si tende a utilizzare di più Perché consuma anche meno batteria Diciamo bene ma non benissimo Qui ho notato che all'incirca sbaglia di un 5-6 metri Che ci può anche stare eh non sarebbe un così grosso problema Il problema è che se noi andiamo a seguire una traccia sulle mappe Poi delle mappe parliamo dopo Una traccia sulle mappe Lui notando che siamo un pochino più a destra Magari di 5 metri rispetto al sentiero Un pochino più a sinistra Continua imperterrito a dirci Sei fuori traccia Sei fuori traccia Perché lui ci vede che siamo qualche metro Al di là della traccia Secondo me questo è davvero un grosso neo Perché vi assicuro che quando lo utilizziamo Ogni 2x3 ci dice che siamo fuori traccia Innanzitutto dopo un po' non ci crediamo più E se dovessimo finire fuori traccia non lo ascolteremmo più veramente E poi comunque non ci dà modo di poter vedere allo schermo Perché ogni 2x3 abbiamo questo messaggio con scritto fuori traccia Per quanto riguarda l'altimetro Perfetto Per quanto riguarda poi tutto quello che è il mondo di bruciare le calorie Quante calorie vengono bruciate Diciamo che in generale davvero dal punto di vista dei sensori È un ottimo orologio Mi manca un pochino ad esempio l'HRV Mi manca un pochino anche la lettura del sonno Che secondo me non è così perfetta Diciamo allora sensori per la vita outdoor Abbastanza buoni A parte quel GPS è veramente ottimi Sensori un pochino più Per quanto riguarda lo stato di saluto della persona Il monitoraggio continuo giornaliero eccetera Ecco lì magari c'era un pochino da lavorare meglio Visto che ve ne accennavo mappe Finalmente abbiamo un sunto con le mappe Che si possono consultare anche offline Le mappe sono gratuite Scaricabili direttamente dal sito di sunto Ce ne sono tantissime per tantissime nazionalità E devo dire che le mappe sono fatte veramente molto molto bene Delle mappe che non hanno nulla da invidiare Per intenderci a quelle di Garmin Delle mappe con le quali è veramente facile orientarsi Con le curve di livello Con tutta la parte anche di colori Fatti bene per capire dove stiamo passando Devo dire veramente ottime E poi anche la navigazione Come dicevo possiamo importare una traccia GPX All'interno dell'orologio passando dall'applicazione E devo dire che è abbastanza semplice seguirla Ci dà un po' di informazioni Come ad esempio quanto dislivello ci manca Alla fine della traccia E qui diciamo che anche qua c'è un pochino un neo Perché è una funzione climbing pro Come può essere quella del Garmin In cui ci dice anche che punto siamo nella salita Quanto dislivello dobbiamo fare alla fine della salita L'avrei apprezzata particolarmente Soprattutto magari per chi fa trekking o trail running Per quanto riguarda tutta la parte di connettività È abbastanza basic Si riesce a collegare al nostro cellulare Senza alcun problema in bluetooth Sugli Android si riesce a rispondere Alli messaggi anche con delle risposte preimpostate Non sugli iPhone E devo dire che è veramente molto basic Si riesce a gestire un po' la musica Ma non è possibile caricarci sopra della musica Da zero per poterla ascoltare anche offline Non esiste la possibilità di fare pagamenti contactless Diciamo che dal punto di vista della connettività È veramente abbastanza ridotto all'osso È sicuramente un orologio che punta di più alla parte sportiva Rispetto alla parte smart Arriviamo dunque alle conclusioni di questo Xunto Vertical Innanzitutto il prezzo Perché secondo me è la Dota più dolente di questo orologio Parliamo nella versione titanio che ho io Di 800€ Secondo me sono un po' tanti Sono un po' tanti per questo tipo di orologio Perché per lo stesso prezzo si può prendere Parlando di concorrenza Un 7X di Garmin Oppure anche un Enduro Solo si trova scontato E devo dire che lì si hanno nettamente molte più feature Non tanto dal punto di vista della connettività Che magari quelle possono interessare meno Ma proprio anche dal punto di vista Ma proprio anche dal punto di vista della gestione Diciamo di una traccia GPS Quando la importiamo Abbiamo maggiori dati Abbiamo un rilevamento diverso Diciamo che secondo me Questo orologio ha 800€ un po' alto Io lo pagherei 600€ Su 600€ secondo me Risulta essere veramente un ottimo orologio Ma 800 sono abbastanza Da detto ciò ragazzi Io non ho spaventato esauramente esaustivo Vi ringrazio per aver guardato questo video Se avete delle domande specifiche su questo assunto Magari qualcosa che non abbiamo parlato Fatemene sapere qua sotto nei commenti Perché esontanmente tante feature Che sarebbero essere raccontate tutte Saremmo stati qua due giorni interi Quindi ragazzi davvero Per questo assunto vertical è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao